Spero che si veda, Omega Moonwatch, nuovo Speedmaster Professional, nuovo calibro, 3061 Omega, movimento George Daniel, spirale libera, stop secondi, 1500 Gauss, 15000 Gauss, doppia certificazione, 0 più 5 secondi al giorno, cioè sgara di 5 secondi, bracciale rinnovato, asimmetrico, cassa, no scusate, cassa asimmetrica, fondello rinnovato, plexi 6300€, zaffiro 7200€, ma compra lo zaffiro dai, guarda, poi dopo ci sono anche quelli, questi qua sono quelli basic, ok, peccato il riflesso, comunque troppo le foto sono, dopo ci sono quelli metalli preziosi, che varcano anche la soglia dei 10.000 ampiamente, potete personalizzarlo ampiamente, comunque è un bel orologio, un orologio iconico, gli orologi iconici si pagano, gli orologi iconici si pagano, capito?